È inaccettabile quanto stiamo vedendo in questi giorni, è inaccettabile che si crei un business sull'immigrazione clandestina, è inaccettabile, e il caso più eclatante è quello di Como, che addirittura si spendano milioni di euro per dare vitto e alloggio a persone che non hanno nemmeno fatto la richiesta di asilo. Perché ci fate con quelle persone? Una volta che sono arrivate e sbarcate in Italia... Cosa si fa? Bisogna metterne i CIE, nei centri di identificazione e espulsione, e cacciarle. Quello che prevede la legge dello Stato italiano, cioè il governo non sta rispettando la legge dello Stato e spende soldi per accogliere dei clandestini, prevede l'espulsione, non riescono a spoglierli subito, li mettono nei CIE e dopo provvedono a fare gli accordi con i paesi prima o poi.